12 km Sono Nadia Battogretti e la mia disciplina sono i 5.000 metri Solitamente dopo una giornata tosta di università, in mia opinione andare fuori a correre anche se è una mezz'oretta ti aiuta a tranquillizzarti, a rilassarti, a pensare magari ad altri o a sentirti più leggera come fai ad allenare tua figlia come persona della ragazza tranquilla, sempre stata gioiosa, non ha mai creato problemi quindi come genitore sono molto felice Mi papà mi ha seguito da quando ho 7 anni, non soltanto in tutte le parti della mia vita, del giorno ma anche della mia stessa vita e diciamo che è dai 7 anni fino ai 23 che mi segue io ovunque e ovunque e ovunque e quindi diciamo che per me è essenziale questo doppio ruolo Come allenatore sono felicissima perché comunque lei è un talento secondo me di livello alto, molto alto ha preso un po' di caratteristiche delle mie e un po' di quelle della mamma quindi è molto veloce e anche molto resistente, quindi la vera Nadia penso che ancora è in fase di costruzione quindi si vedrà nei prossimi anni Da quando ho iniziato l'atletica è sempre stato un obiettivo molto importante quello di divertirsi e questo si è visto in ogni gara della mia carriera Per me divertirmi in gara è una cosa molto importante perché nel momento in cui mi diverto in qualcosa riesco addirittura a farla meglio Ai campionati del mondo a Budapest gareggerò sui 5.000 metri spero di gareggiare su 2-5.000 metri nel senso di gareggiare sia nella semifinale che nella finale I'm Nadia Battogletti and I'm excited to compete at the World Championship in Budapest